Musica Oh Panda saluto a tutti i pandini e bentornati in un nuovo video da una Pixelmon Ok, allora, F5, ok, F5 Ragazzi, e alziamo i volumi perché qui ci sarà da divertirsi Allora, dobbiamo andare a posizionare i nostri altari Questo sarà, ragazzi, l'episodio speciale, finalmente, dove ci saranno i nostri tre Pokémon leggendari Allora, F1, scusate, allora, innanzitutto mettiamoli in ordine Allora, no, M, allora, Articunos, Articuno, vabbè Poi Moltres e Zapdos, in ordine alfabetico Speriamo di metterli dritti, raga Oh Un Sindaquil, che carino Oh, ragazzi, oh, ragazzi, gli altari Oh, Moltres, Articuno, Moltres e Zapdos Allora, guardate già la figaggine E guardate solo anche solo la figaggine Allora, Articuno Moltres e Zapdos Masterball di fianco Assolutamente Facciamo così, anzi Ta ta ta, anzi così Così E così Ok Andiamo? Andiamo, ragazzi, non è che volano via Non è che volano via? No, un attimo, voglio soltanto guardarli un attimino Li guardo un attimino vuoti Anzi, F1 F1, faccio anche F2 Mi faccio uno bellissimo screen Ok Intanto, apro il balcone al can Chiudo la porta Sì, però Non voglio evocare degli uccelli leggendari E sentirmi il verso di PIGIATO Così Allora, F1 Dobbiamo fare in fretta Allora, andiamo? Andiamo? Uno Due E tre, ragazzi E tre F2 Ragazzi Dai Fuori uno Fuori due E fuori tre Oddio, raga Oddio, raga Abbiamo i tre uccelli leggendari Oddio, che figata Li abbiamo evocati tutti e tre insieme Li abbiamo evocati tutti e tre insieme You captured Articuno Moltres e Zapdos Ok Ok, ragazzi Guardate la nostra squadra Abbiamo Articuno Moltres e Zapdos Adesso andiamo a fare una cosa Statistiche E facciamo così per tutti e tre E facciamo così per tutti e tre Così li possiamo utilizzare e rimangono a livello 70 Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ok Tiriamoli fuori Allora Uno Au Ma cos'è Ma che razzo Ma che razzo diversi fanno Allora, proviamo a salire Perché sono storta? Ma perché? Oddio, raga Ma quanto è figo Ma quanto è figo Articuno Mi piace Articuno Guardate che coda lunga Ma come siamo? Ok, poi Vediamo Moltres Vediamo Moltres ragazzi Eh Non è malvagissimo anche Moltres Oh Moltres Lo fai il verso? Ah, bello Mi gusta Mi gusta Ma anche qua siamo storti Ma perché si mettono storti? Ah, guardate che figata, raga Ma c'è un'ala piegata Ma un'ala piegata Ah, no, non è così Che begli occhi Che begli occhi, raga Mamma mia Bello, 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 bello Mi piace E poi Zapdos Vediamo un po' Zapdos Ma che ti urli? Oh, Solrock Te levi? Testale, va Sto ammirando i miei Pokémon Ok Zapdos Vediamo Anche su di esso Siamo messi storti Molto bene Però Sono veramente Fighi Ragazzi Lo speciale Dei tre uccelli leggendari L'abbiamo fatto Adesso Voglio soltanto vedere Prima di fare Un attimo Moves Allora Abbiamo Gust Mist Mind Reader Reflect Vediamo un attimino Le statistiche Difesa speciale Più altina 140 di velocità Attacco speciale E più alto Giustamente Dell'attacco Ok Poi Vediamo un pochettino Moltres Moltres Attacco speciale Nettamente più alto Rispetto all'attacco Giustamente La difesa speciale Ovviamente più alta Rispetto alla difesa 138 Allora abbiamo Bracere Agilità Forza antica Endure Non so cosa sia Perfetto Molto bene E poi Dovremmo Vedere Anche Zapdos Statistiche Allora L'attacco speciale 189 Wow Moss Pec Pec Penso sia Beccata Sì Sarà beccata Sicuramente Pilac The user Pec The target Ah Ok Ok Poi agilità Discharge Eh Charge Sarebbe carica E Discharge Sarà scarica Quindi Sì Scarica Scossa Non so come Tradurlo In realtà Ok Questo non è male Dovremmo Poi vedere Ragazzi Fra Gli oggetti Che abbiamo noi Tipo Attrezzi pixelmon Vari No Questo qua va via Ok Negli attrezzi pixelmon Noi abbiamo un sacco Di TM O meglio Mosse tecniche Tipo Overhead È una Potentissima Mossa Di tipo Fuoco E potremmo Utilizzarla Su Arte Su Moltres Stone Edge Workup Poison Jab Dream Mate No No Cal Mind Ale Iperbeam Sarebbe Iperraggio Sì 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 Alcune cose Potremmo Tranquillamente Come ci siamo Svotati Però Mamma mia Possiamo Allora Io farei così Overhead Lo tiro fuori Ale Voglio vedere Un attimino Che mossa sia No Ale Non lo so Sinceramente Mi sembra tipo Di ghiaccio Da vedere Il disco Overhead Dovrebbe essere Tipo Vampata Una roba del genere E voglio Immediatamente Insegnarla A Moltres O a Charizard A Moltres O a Charizard Vediamo Mosse Charizard Flame Burst Inferno Lui c'ha già Inferno E Wing Attack No Ok Ok A Moltres Perché ha delle Mosse Veramente scadenti Ok Overhead Lo facciamo Imparare Al posto Di Aspetta The user Endure And attack With Agilità O Endure Io Toglierei Endure Vabbè Se ne frega Ok E fuori uno Io abbiamo insegnato Overhead A Moltres E poi Wide Guard Calm Mind Dovremmo vedere Poi se un giave Guarda Iperraggio Potremmo Tra virgolette Insegnarlo Ad Articuno Volendo Che ne pensate Al posto Di Reflecto Che ne pensate Ma si dai Ok Abbiamo insegnato Anche iperraggio Perché c'è Molte su fuori Ancora Ehi Molte Aspettate Aspettate Quanto li metto Tutti quanti fuori E li voglio vedere L'ultima volta Prima di chiudere Il video Perché lo so È stato corto Ma era lo speciale Dei tre uccelli Leggetari Eccoli qui E quindi ragazzi Con le loro urla Strazianti Oh porca vacca Ok Con le loro urla Strazianti Ok mi devo mettere Mi devo mettere Più in qua Ok molto bene Sono in compagnia Dei miei tre Uccellini Da compagnia E i tre altri Sono stati posizionati Hanno funzionato Alla grande E quindi ragazzi Che dire Da giocale N'è tutto Ci vediamo In un prossimo video Della Pixelmon Un panna saluto A tutti quanti E quindi grazie